Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. In questo video parliamo di verbi. Precisamente parliamo dei verbi regolari italiani nelle tre coniugazioni. Forse vi ricordate che i verbi italiani esistono in tre coniugazioni. Abbiamo la prima coniugazione che sono i verbi che terminano in are come parlare, i verbi della seconda coniugazione che terminano in ere come vendere e i verbi della terza coniugazione che sono i verbi che terminano in ire come dormire. Ok? In questo video vedremo i verbi regolari più comuni in italiano, ma non parleremo di coniugazione dei verbi. Se volete imparare a coniugare i verbi regolari in italiano vi consiglio di guardare questo video qui. In questo video spiego nel dettaglio come si coniugano i verbi regolari nelle tre coniugazioni in italiano. È un video fatto molto bene e ti consiglio di guardarlo. qui vi presento una lista dei verbi regolari più comuni, ok? Cominciamo con i verbi della prima coniugazione, i verbi che terminano in are. mangiare. Francesco adora mangiare cibo sano. In realtà non è vero, io amo i dolci, i dolci. parlare. Ci sono persone che parlano, parlano e non finiscono più. Pensare. È tutto il giorno, che pensa. Ma non gli vengono idee buone. Cucinare. Il bello di vivere in Italia. Imparare a cucinare divinamente. Entrare. Qualche volta entrano persone molto strane in casa mia. Cantare. Certe persone dovrebbero evitare di cantare. Vediamo ora i verbi regolari italiani della seconda coniugazione, che sono i verbi che terminano in are. Ho una brutta notizia per te però, perché in italiano molti verbi della seconda coniugazione sono irregolari. Prometto che farò un video sui verbi irregolari, ma questo video riguarda solo quelli regolari, ok? Quindi vediamo alcuni verbi regolari della seconda coniugazione. Vendere. Quando non faccio lezione, mi piace vendere libri alle persone. Ricevere. Che bello ricevere le lettere dai miei studenti. Premere. Ho tante cose e poco spazio. Se premo forte, forse entra tutto. E infine vediamo i verbi principali regolari della terza coniugazione, cioè i verbi che terminano in dire. Dormire. Dopo pranzo bevo un bel caffè e dormo un'oretta sul divano. Partire. C'è chi lavora e chi parte per le vacanze. Vestire. Francesco è strano. Alla sua età ama ancora vestire i pupazzi. Se l'azione è compiuta su noi stessi, il verbo è riflessivo. Vestirsi. Francesco si veste troppo velocemente. E questo è quello che succede. Sentire. Qualche volta sento degli strani rumori. Bene, questi sono i principali verbi regolari italiani. Ci sono dei verbi che non conoscevi? Se vuoi puoi scrivere qualcosa nei commenti qui sotto. E ricordati di iscriverti al mio canale YouTube, ok? Noi ci vediamo prestissimo! Ciao!